Benvenuti, questa lezione è ancora nell'ambito del drenaggio urbano e in particolare nel calcolo delle portate di origine meteorica, quindi applicazione dei modelli di trasformazione a flussi meteorici in deflussi nella rete di condotti che costituiscono il sistema di drenaggio di un territorio cittadino. Abbiamo parlato in precedenza, nella precedente lezione, dei vari tipi possibili di modelli e abbiamo introdotto anche l'argomento modelli concettuali globali e formula razionale. Oggi entreremo nel merito del metodo o modello cinematico. Nell'ambito dei modelli concettuali globali due sono i modelli fondamentali, il modello cinematico, quello che trattiamo in questa lezione, è il modello dell'invaso, il classico modello dell'invaso di cui parleremo nella prossima lezione. Il modello cinematico è anche detto modello di corrivazione. Questa parola corrivazione indica il fatto che il modello si basa fondamentalmente sui fenomeni di trasporto, di traslazione dell'acqua lungo il reticolo. Corrivazione si intende proprio il trasporto dell'acqua, lo scorrimento dell'acqua lungo i condotti e il tempo di trasferimento dell'acqua lungo i condotti. È un modello concettuale globale in quanto simula il comportamento complicato dei fenomeni derivanti dai diversi fenomeni idrologici di traurci del bacino in un modo molto sintetico, molto semplice, che è legato alla rappresentazione dei soli fenomeni di trasporto e questi simulati in modo estremamente semplificato. È un modello lineare. Cosa significa? Significa che appartiene alla famiglia dei modelli lineari in cui tutti i fenomeni possono essere rappresentati attraverso operazioni di sommabilità degli effetti. Quindi si può scomporre ad esempio una pioggia in componenti elementari e ricostruire il deflusso finale mediante la ricomposizione degli effetti provocati dalla singola pioggia. Ricomposizione lineare, quindi per somme lineari. Allora, l'intero bacino, se il modello vuole essere lineare, deve essere rappresentato con operatori lineari. I fenomeni di traslazione sono rappresentati quindi da una serie di canali cosiddetti lineari, canali in cui la velocità dell'acqua è sempre costante, qualsiasi sia il livello idrico che si sta ora all'interno del canale. Sappiamo che nella realtà questo non è vero, è assolutamente sbagliato e in un canale, in un condotto qualsiasi la velocità dipende dal livello dell'acqua, dal livello del riempimento, dal tirante idrico interno. Quindi se in un'onda di piena abbiamo fasi di riempimento differenziate, differenti nel tempo, avremo anche velocità differenti. Il modello cinematico ritiene di poter descrivere il fenomeno con questa grande semplificazione, la velocità sempre costante. Allora, su che cosa si basa il modello cinematico? Si basa su un elemento essenziale del bacino che è la cosiddetta curva a re tempi. Intanto occorre definire qual è il cosiddetto tempo di concentrazione o tempo di corrivazione. In realtà tra le due terminologie c'è una sottile differenza, ma essenziale differenza di cui parleremo subito dopo. Parliamo un attimo del tempo di corrivazione. Allora immaginiamo una pioggia che cade sul bacino e immaginiamo quella particella di pioggia che cade nel punto più lontano del bacino. Questa particella di pioggia la ritroveremo all'uscita dopo che essa ha percorso il reticolo, seguendo tutti gli elementi della rete idrografica che questa particella incontrerà, quindi di affluente in affluente fino alla sezione finale. Immaginiamo di aver definito quelle velocità costanti di scorrimento in ognuno degli elementi del reticolo. Allora, note queste velocità, possiamo immaginare di conoscere quanto vale il tempo di traslazione di questa particella dal punto più lontano del reticolo fino alla sezione finale. Quindi il tempo di corrivazione è proprio definito come il tempo che impiega una particella d'acqua percorrere l'intero bacino seguendo il percorso idraulico più lungo, cioè seguendo quel percorso che tra tutti quelli del bacino è il più lungo di tutti. Il tempo di corrivazione, quindi essendo note le velocità o supponiamo che siano note, il tempo di corrivazione diventa quindi una caratteristica costante, un parametro costante stazionario del bacino. Immaginiamo che avendo scelto una certa suddivisione dei tempi in passi temporali delta T, in questo esempio, il tempo di corrivazione sia misurato da 4 delta T. Allora immaginiamo di individuare ancora all'interno del bacino le cosiddette linee iso-corrive, cioè quelle linee che si trovano ad ugual tempo di corrivazione dalla sezione finale. Quindi immaginiamo che questa linea sia quella che unisce tutti i punti del bacino che si trovano ad un delta T dall'uscita finale del bacino, così la linea 2 delta T che sarà un po' più interna evidentemente perché il tempo di percorso 2 delta T è il doppio del tempo di percorso delta T, la linea 3 delta T e la linea 4 delta T che riguarderà solo il punto più lontano che abbiamo descritto prima. Allora immaginiamo con qualsiasi metodo, un metodo con metodi abbastanza complessi talvolta, di aver individuato le linee iso-corrive e allora avremmo potuto anche individuare quali sono le superfici comprese tra iso-corriva e iso-corriva, la superficie S1 compresa nell'iso-corriva 1, la S2, la S3 e la S4. A questo punto possiamo costruire la cosiddetta curva aree-tempi, cioè una curva aree-tempi in cui in ordinate abbiamo le superfici sottese tra le diverse iso-corrive e in ascissa i vari tempi parziali di corrivazione e quindi avremo una curva sempre crescente dal momento che all'aumentare del tempo di corrivazione parziale del bacino aumenterà la parte di bacino sottesa tra quella tempo di corrivazione parziale e la sezione terminale. La curva è sempre crescente, avrà l'andamento che avrà in funzione della forma del bacino e terminerà nel punto finale che è quello che fa corrispondere il tempo di corrivazione complessivo del bacino con la superficie complessiva del bacino. Quindi questa è la caratteristica essenziale del modello cinematico. Adesso in base alla conoscenza della curva aree-tempi proviamo a calcolare quali possono essere le onde di piena provocate da una pioggia, l'onda di piena provocata da una pioggia su questo bacino. Immaginiamo una pioggia, questo rettangolo di pioggia, quindi una certa portata di precipitazione netta, stiamo già parlando di piogge nette, quindi abbiamo già moltiplicato l'intensità di pioggia per la superficie del bacino e per il coefficiente d'afflusso che rappresenta il bilancio idrologico del fenomeno e immaginiamo una pioggia che è duri un delta t, il bacino ha un tempo di corrivazione 4 delta t e la durata della pioggia è un delta t. Questa pioggia naturalmente sta cadendo sull'intero bacino, quindi cade non solo sull'area S1 ma contemporaneamente sulla S2, sulla S3 e sulla S4. Allora proviamo tenendo conto che il modello è un modello lineare a scomporre gli effetti che la pioggia compie sulle singole aree, quindi vediamo prima l'effetto provocato da questa pioggia sulla prima area S1, poi sulla seconda, sulla terza, sulla quarta e poi otterremo l'effetto finale sommando gli effetti parziali. Allora la pioggia produce sul bacino S1 un'onda di piena che se la curva aree-tempi è lineare a tratti, è lineare all'interno di ognuna delle sottoare, è rappresentata da un triangolo e la cui ordinata massima, cioè la cui portata al colmo è data dal coefficiente sempre phi per l'intensità di pioggia per l'area S1. Se si fa il conto del bilancio idrologico di questo evento e si prende il volume di pioggia complessivamente pervenuto nell'area S1 e lo uguali al volume di pioggia netta, quindi già al netto delle perdite e lo si uguali al volume di deflusso sotteso da questo triangolo, si trova che i due volumi sono esattamente uguali. L'onda di piena, notate che parte da zero, raggiunge il colmo al termine della pioggia perché via via contribuiscono al deflusso tutte le areole che si trovano progressivamente a tempi di corrivazione crescenti e poi termina con un ramo di eserimento al 2 delta T, perché termina al 2 delta T? Perché l'ultima pioggia caduta all'istante 1 delta T nel punto più lontano del bacino, di questo sottobacino S1, gli occorre ancora un tempo delta T per giungere nella sezione finale, quindi l'ultima particella di pioggia caduta nel punto più lontano uscirà dalla sezione terminale all'istante 2. L'onda di piena quindi si prolunga per un tempo pari al tempo di pioggia più il tempo di corrivazione del bacino che stiamo considerando. Se adesso andiamo a prendere questa stessa pioggia che in realtà è caduta sull'intero bacino, solo sul bacino S2 e andiamo a vedere qual è l'onda di piena che questo bacino S2 produce nella sezione terminale, troveremo questo triangolo, cioè troveremo intanto un triangolo che anch'esso dura 2 delta T complessivamente perché la pioggia dura un delta T e perché poi occorre un delta T di traslazione all'interno del bacino, ma l'onda di piena si presenta nella sezione finale spasata nel tempo perché ha bisogno di percorrere anche il bacino S1 che ha un tempo di corrivazione 1. Quindi la pioggia, la stessa pioggia caduta nel bacino 2 produce un triangolo di piena che poi si presenta alla sezione finale spostato di un delta T. Lo stesso discorso vale per il bacino 3 e lo stesso discorso vale per il bacino 4. Ecco, quindi queste quattro onde sono le onde di piena elementari prodotte dalla pioggia sulla singola componente di aria individuata dalla curva a re-tempi. Evidentemente facendone poi la somma ottengo l'onda di piena complessiva. Ecco, vedete, è un metodo semplice, la logica l'abbiamo descritta che ricostruisce con questo modo semplice, molto semplice, molto semplificato, l'onda di piena. Se adesso pensiamo che la pioggia non sia solo quella che abbiamo detto rappresentata da un unico nucleo di pioggia, ma supponiamo una pioggia comunque composta da elementi di pioggia e facciamo un'ulteriore somma, cioè pensando a cosa produce ogni pioggia su ogni area e sull'intero bacino, avremo una situazione di questo genere. Ad esempio la prima pioggia produce sull'intero bacino, con la ricostruzione che abbiamo fatto prima, l'onda di piena, questa qui, la prima. La seconda pioggia produce sull'intero bacino questa seconda onda, la terza pioggia produce la terza onda e via di seguito fino a ricostruire un'onda di piena complessiva, sempre con un principio di sommabilità degli effetti. Ecco, questo è il metodo di corribazione. Il metodo di corribazione è un metodo cinematico, è un metodo che quindi si basa sulla curva aere e tempi per ricostruire la successione degli eventi, vedete tutti dominati dal concetto di traslazione, di tempi di traslazione. Un caso particolarmente semplice, che poi nei calcoli semplici, nei calcoli di prima approssimazione è quello che si considera, è di immaginare che la curva aere e tempi, senza doverla calcolare, sia rappresentata da un'unica linea retta, quindi sia una curva lineare. Questo significa che nella rappresentazione della curva aere e tempi abbiamo questa retta e questo significa che quindi per ogni delta T le aree S1, S2, S3 e S4 sono tutte uguali una all'altra e quindi quella spezzata si, come posso dire, collassa su un'unica retta. Questo semplifica naturalmente i calcoli, perché essendo tutte le sotto aree sempre uguali a se stesse, le onde di piena elementari sono sempre tutte uguali. Quindi se per questo caso particolare, che ripeto è però un caso particolare ma particolarmente utilizzato, sempre in via semplificata, teniamo conto che tutte queste semplificazioni di cui abbiamo parlato, che possono sembrare inopportune o eccessive, in realtà oggi hanno il senso di consentire dei calcoli di prima approssimazione, in quanto i modelli più raffinati che oggi esistono e che sono di uso comune, ormai comune, offrono invece la possibilità di dettagliare molto meglio le soluzioni. Allora una soluzione di primo tentativo approssimata è utile per inquadrare approssimativamente il problema e poi questo problema viene dettagliato con l'uso di modelli raffinati. Allora nel caso di una curva a retempi lineari, quella successione di eventi che dicevamo prima porta a onde tutte uguali e quindi poi a un'onda trapezia, vedete di forma trapezia, perché tutti i colmi elementari dell'onda sono tra loro tutti uguali. Quando abbiamo quindi una pioggia che si prolunga per un tempo, che ha una durata inferiore al tempo di concentrazione, al tempo di corrivazione, l'onda di piena nel modello cinematico per curva a retempi lineari è rappresentata da un trapezio che ha il ramo crescente fino al termine della pioggia, un ramo piatto fino al tempo di corrivazione e poi un ramo decrescente che è quel delta T che occorre per esaurire tutta la pioggia. Notate sempre che il tempo totale della piena, in questo caso 5, è dato dalla somma di 4 che è il tempo di corrivazione più 1 che è il tempo di pioggia. L'ultima pioggia che cade all'istante 1 nel punto più lontano ha necessità di un 4 delta T per giungere, uscire dal bacino, quindi 5 delta T. Nelle lezioni di idrologia del professor Calenda avete parlato di modelli lineari e in particolare della teoria dei modelli lineari. Il modello cinematico essendo lineare è anch'esso compreso in quella teoria dei modelli lineari che fa capo al cosiddetto modello dell'idrogramma unitario sintetico, che è rappresentato da questo integrale di convoluzione, nel quale la funzione Iuh del tempo è quella che rappresenta il modo di funzionare del modello lineare, del bacino lineare. Ecco, si può dimostrare molto rapidamente, ma non è questo copico di questa nostra lezione, che nel caso del modello cinematico la funzione Iuh è rappresentata da questa equazione, cioè dall'inverso della superficie del bacino per la derivata della curva a retempi. Quindi quando si conosca la curva a retempi se ne può fare la derivata, la derivata meno della costante S rappresenta l'idrogramma unitario del bacino. Per curve a retempi lineari la derivata è ovviamente una costante, in particolare S totale diviso il tempo di corrivazione totale e quindi l'idrogramma unitario del bacino non è nient'altro che l'inverso del tempo di corrivazione. Quindi in una rappresentazione dell'idrogramma unitario, se abbiamo un bacino che ha un tempo di corrivazione T01, l'idrogramma unitario sarà questo rettangolo, se il tempo di corrivazione è più grande, il rettangolo sarà sempre di ordinata minore dal momento che per definizione l'idrogramma unitario deve avere sempre area unitaria. Quindi questo è solo un richiamo di inquadramento del modello cinematico nell'ambito della teoria dei modelli lineari. Proseguiamo con questa presentazione del modello dicendo che allora se le piogge sono costanti e le piogge hanno una durata teta minore del tempo di corrivazione, come abbiamo visto prima e per curve a retempi lineari, producono con il modello cinematico un'onda di piena che ha forma trapezia, in cui ripeto ancora il ramo crescente dura fin tanto che dura la pioggia, finita la pioggia esiste un ramo piatto perché continuano a fluire componenti di portata della parte a monte del bacino, che però essendo uguale alla parte a valle producono picchi che sono sempre uguali, quindi esiste un ramo piatto fino al tempo di corrivazione e poi un ramo decrescente che si chiude al tempo, dato dalla somma del tempo di corrivazione più la durata della pioggia. Il colmo naturalmente non può che valere per l'equilibrio dei volumi, ma tenendo anche conto che il ramo crescente cresce come la curva a retempi, il colmo non può che essere dato da questa espressione, cioè la portata al colmo del trapezio, dell'onda di piena, è data dalla portata di pioggia nel rapporto superficie della curva a retempi sottesa da un tempo pari alla durata di pioggia diviso la superficie totale. Quindi si vede che la portata al colmo, cioè questo tetto finale più alto del trapezio, è tanto più alto quanto più è lunga la durata di pioggia, perché quanto più è lunga la durata di pioggia, tanto maggiore sarà l'area sottesa del bacino dalla curva a retempi. Se quindi immaginiamo adesso una pioggia che cresce di durata fino a diventare lunga quanto il tempo di corrivazione, data questa espressione, troveremo che Q non potrà che essere uguale a P con 0, dal momento che S di teta diventerà pari ad S e quindi S diviso S diventa 1. Quindi avremo una situazione di questo tipo, cioè per una pioggia che dura quanto il tempo di corrivazione, quel trapezio è cresciuto fino a diventare questo triangolo con la portata al colmo pari alla portata di pioggia. Il metodo cinematico quindi ci dice che per una pioggia che dura quanto il tempo di corrivazione, la portata al colmo uguaglia la portata di pioggia, cioè è come se dicessimo che il transitorio di formazione della piena in un bacino di tempo di corrivazione T0 dura T0, dopo il tempo di corrivazione T0 il bacino entra al regime, cioè tanta portata sta entrando dalla pioggia, altrettanta sta uscendo dal bacino, però in questo caso la pioggia termina proprio quando abbiamo raggiunto questo massimo colmo e poi ovviamente impiegherà ancora un tempo pari a T0 per uscire. Se invece abbiamo una pioggia che dura di più del tempo di corrivazione, noi avremo un ramo piatto, noi avremo un ramo piatto perché il bacino è entrato al regime e quindi si ha una piena che dura, che rimane inalterata fin tanto che piove, avremo ancora quindi una onda di piena a trapezio, questa volta con il valore massimo pari al valore di pioggia, cioè pari alla portata di pioggia. Ecco, questi tre casi, quindi durata di pioggia inferiore a T0, durata pari a T0 e durata maggiore di T0, ci servono per capire come si può scegliere l'evento critico. Vi ricordate che nella lezione precedente abbiamo parlato della formula razionale che deve essere applicata all'evento critico, alla durata critica di un evento. Ecco, qui troviamo finalmente la risposta, troviamo la risposta col modello cinematico, cioè la risposta che in termini di evento critico dà il modello cinematico. Allora, prendiamo il nostro piano in cui diagrammiamo la curva di possibilità pluviometrica, ne calcoliamo la curva di portata di pioggia netta, quindi moltiplichiamo l'intensità di pioggia per S e per Phi, in modo da avere direttamente gli andamenti delle portate di pioggia nette in funzione della durata, immaginiamo che il nostro bacino abbia tempo di corrivazione T0 indicato in questo punto e adesso immaginiamoci delle durate di pioggia minori, uguali o maggiori a T0 e vediamo quindi per questa curva che è di tempo di ritorno assegnato quali sono gli eventi di portata, le onde di piena provocate da piogge di durata differenti e questo ha lo scopo di andare a vedere tra tutte le durate qual è quella più critica, cioè quella che ci produce il massimo colmo, il colmo più pericoloso. Allora, immaginiamo una durata minore di T0, questa è la precipitazione, stiamo sempre considerando precipitazioni costanti nel tempo e già sappiamo che questa precipitazione ci produce un trapezio di onda di piena, un'onda di piena trapezio il cui colmo è dato dall'espressione che abbiamo visto prima, quindi abbiamo un ramo crescente che tenderebbe a crescere fino al valore della portata di pioggia per il tempo di corrivazione, ma che è costretto ad arrestarsi perché la pioggia finisce all'istante teta e poi avrà un ramo piatto fino al tempo di corrivazione e poi un ramo decrescente. Se adesso prendiamo una pioggia che anziché durare teta 1 dura teta 2 pari a T0, la pioggia avrà una portata di pioggia di questo tipo, fornita dalla curva di possibilità pluviometrica. L'onda di piena allora non potrà che essere questa, cioè un'onda di piena che cresce fino a pareggiare il valore, ad uguagliare il valore della portata di pioggia netta per poi decrescere, cioè il triangolo di piena che vedevamo prima. Se prendiamo una durata teta 3 maggiore di T0 a cui corrisponde una portata di pioggia più bassa, avremo un'onda di piena che è data da un trapezio che cresce, caratterizzato da un ramo crescente fino al tempo di corrivazione, un ramo piatto perché la pioggia si prolunga oltre il tempo di corrivazione e poi un ramo decrescente. Ecco, allora notate che per tutte le durate minori o uguali a T0, la portata al colmo è minore della portata che si ha al colmo per l'evento che dura T0. Per tutte le durate maggiori di T0, di nuovo la portata al colmo sarà minore della portata che si ha per una durata pari al tempo di corrivazione T0. Cioè l'evento peggiore tra tutti questi in termini di portata al colmo è proprio l'evento che dura T0. Il modello cinematico conduce a questo risultato è estremamente importante, estremamente rappresentativo. Tra tutte le piogge, se dobbiamo andare a considerare in un bacino qual è la pioggia critica, dobbiamo calcolare il tempo di corrivazione del bacino e andare a prendere la durata pari al tempo di corrivazione del bacino. Facciamo un esempio macroscopico, prendiamo il bacino del Po, il al delta del Po, a Ponte Lago Scuro che è l'ultima sezione prima del delta del Po. Questo bacino ha un tempo di corrivazione di molti giorni. Allora che cosa significa? Significa che le piogge che sono critiche nella zona di Ferrara, nella zona finale del Po, sono quelle che hanno una lunga durata, cioè sono le piogge che sono pesanti ma che si prolungano per un tempo grande fino a raggiungere il tempo di corrivazione del bacino. Queste stesse piogge, immaginiamo di considerarle per un affluente del Po, supponiamo un piccolo affluente del Po, queste stesse piogge che sono critiche per Ferrara, supponiamo per il Po a Ferrara, sono assolutamente non critiche per un bacino montano. Un bacino montano invece è critico per piogge di breve tempo di corrivazione, cioè per le piogge che hanno, per brevi durate, cioè per piogge che hanno durate pari al tempo di corrivazione di quel bacino. Allora il modello cinematico pur con la sua semplicità ci conduce a questo risultato importante, quando abbiamo bisogno di conoscere l'evento critico e andiamo a considerare il tempo di corrivazione del bacino perché quello sarà la durata dell'evento che dovremmo considerare come evento critico. Tutto questo naturalmente che abbiamo visto esplorando i grafici viene anche dedotto dalle equazioni, ricercando le condizioni di massimo della portata al colmo, qui sorvolo per brevità, l'abbiamo già detto e in sostanza si trova sia esplorando il campo delle durate minori uguali di t con 0, sia esplorando il campo delle durate maggiori di t con 0, si giunge a dimostrare che la portata critica è proprio quella che dura, la durata critica è proprio quella che dura t con 0. E quindi se ritorniamo alla formula razionale che è ricordata questa espressione, possiamo dire che con il modello cinematico, essendo la durata critica pari a t con 0 e per il modello cinematico, essendo quel coefficiente y uguale a 1, perché vi ricordate che la portata al colmo del triangolo è pari alla portata di pioggia, quindi y uguale a 1, la formula razionale con il modello cinematico diventa questa. Quindi la portata al colmo è data dal solo coefficiente da flusso per l'intensità di pioggia commisurata ad una durata pari al tempo di corrivazione per l'area del bacino. Ecco, quindi è una formula molto semplice da ricordare e molto espressiva dal momento che mette in luce l'importanza del tempo di corrivazione. Come si calcola il tempo di corrivazione? Questo è molto importante ovviamente, perché è il parametro fondamentale del modello, occorre saper calcolare per un certo bacino quanto vale il tempo di corrivazione. Stiamo parlando di bacini urbani e quindi parliamo dal punto di vista dei bacini urbani. Ecco, allora il tempo di corrivazione del bacino che abbiamo in esame sarà pari a che cosa? Alla somma del cosiddetto tempo di entrata, dirò subito di che cosa si tratta, più la sommatoria dei tempi di traslazione lungo i rami che costituiscono il percorso più lungo. Allora noi dovremmo individuare il percorso più lungo, idraulicamente più lungo, quindi quello di maggior tempo di corrivazione e calcolare questo tempo di corrivazione, il cosiddetto tempo di rete. Il tempo di corrivazione è dato da un tempo di entrata più un tempo di rete. Il tempo di rete sarà dato quindi dal valore massimo della sommatoria dei tempi di corrivazione parziali, ciascuno dei quali lo potremmo calcolare come rapporto tra la lunghezza del ramo e la velocità con cui è percorso il ramo. Quindi, conoscendo le lunghezze dei rami che compongono il percorso più lungo e le rispettive velocità, potremmo calcolare i tempi di traslazione dei singoli rami, farne la somma secondo tutti i possibili percorsi, trovare il percorso più lungo ricercando quindi il massimo di questa somma. Ecco, quindi l'espressione è questa. C'è un coefficiente 1,5, cioè non si prende così semplicemente la somma dei tempi di traslazione, ma se ne prende un valore minore, essendo diminuito questo tempo di traslazione complessiva di una quantità che in base agli studi sia pure in modo approssimato è stata fissata in 1,5. Questo perché? Per tutta una serie di motivi piuttosto complessi. Intanto c'è da dire che i modelli idrodinamici mostrano che il tempo di traslazione, cioè funzione della velocità, non è il tempo di traslazione di un'onda di piena che procede più rapidamente dell'acqua. L'onda di piena è un'onda di energia che cammina lungo il percorso più velocemente, ha una celerità come si suol dire maggiore rispetto alla velocità dell'acqua. L'onda tende a precedere l'acqua e da questo punto di vista quindi occorre diminuire il tempo di traslazione di una quantità che è appunto 1,5. Poi c'è un altro motivo, in realtà è molto importante, peraltro noi stiamo considerando piogge costanti nel tempo, quando invece non lo sono e per tener conto della sottostima che la pioggia costante nel tempo produce rispetto a una pioggia con un colmo maggiore della pioggia costante, occorre diminuire il tempo di corrivazione. Il tempo di entrata è un tempo di corrivazione che noi non simuliamo e che rappresenta il tempo che impiega una particella di pioggia a raggiungere il primo elemento della rete ideografica che gli compete. Allora se noi abbiamo considerato tutti i tempi di traslazione in rete stiamo trascurando i tempi che impiega l'acqua per raggiungere la rete, quindi questo tempo di entrata in rete. Nei bacini urbani questo tempo è molto ridotto perché i vari reticoli interni alle case o immediatamente dopo le case raggiungono subito la rete della fognatura e in genere si pone pari a 5 minuti. Naturalmente se tutto questo lo stiamo applicando in un bacino naturale dovremo prendere valori differenti. Allora quindi il tempo di entrata l'ho definito, il tempo di rete l'ho definito, il tempo di rete del percorso idraulicamente più lungo a monte della sezione di calcolo, 1,5 è un coefficiente di taratura per tener conto di tutte quelle cose che dicevo prima, si deve andare a scegliere il percorso più lungo, idraulicamente più lungo che caratterizza il bacino. Nel calcolo dei tempi di traslazione quindi intervengono le lunghezze dei rami e le velocità, per semplicità, vedete come il criterio della semplicità è quello che comanda tutto, si utilizzano le velocità a massimo riempimento dei condotti e che quindi sono facilmente calcolabili con la formula di Schenzier. Anche se a riempimenti parziali abbiamo evidentemente velocità differenti, però qui subentra quella ipotesi semplificata di velocità costante che dicevo all'inizio. In definitiva, fatti i conti, può essere utile dare degli ordini di grandezza, quanto valgono le portate al colmo che si ottengono col metodo cinematico in funzione di diversi coefficienti di perdita, qui indicati tra 0,2 e 0,8 e in funzione di diverse intensità critiche di pioggia. Ecco, vedete che gli ordini di grandezza della portata al colmo, anzi del cosiddetto coefficiente udometrico, che è il rapporto tra la portata al colmo e la superficie del bacino, cioè il contributo alla portata al colmo di ogni unità di superficie del bacino, è dato da alcune decine o anche un centinaio o qualcosa più di un centinaio, di litri secondo per ettaro. Ecco, fatti i calcoli per le piogge critiche, si ottengono quindi ordini di grandezza di molte decine di litri secondo per ettaro. Quando nella prima lezione parlavamo di ordini di grandezza, vi ricordate che abbiamo detto che le portate nere hanno l'ordine di grandezza di un litro secondo per ettaro, mentre le portate meteoriche di 100 litri secondo per ettaro. Qui ritroviamo questo caso. E per terminare vediamo come si calcola allora un bacino con il metodo cinematico, quindi entriamo nel medio della successione dei calcoli che si devono fare per applicare quelle teorie che abbiamo visto finora. Allora abbiamo un certo bacino comunque complesso, per capire come si fa andiamo a isolare una confluenza tra due rami e il ramo ricettore successivo. Quindi facciamo un zoom di questo elemento di bacino caratterizzato da tre rami. Il discorso che qui stiamo facendo poi lo possiamo ripetere per qualsiasi confluenza del bacino. Allora immaginiamo questo bacino composto da tre aree, S1, S2 e S3, drenate da tre rispettivi condotti 1, 2 e 3. I condotti 1 e 2 sono condotti di testata, il condotto 3 è un condotto che riceve le acque dai due condotti precedenti ma anche dal bacino di propria competenza. Che cosa è noto? Sono note ovviamente le aree che possiamo misurare, immaginiamo di conoscere il rapporto delle superfici impermeabili e permeabili di ciascuna area e quindi i coefficienti Φ e quindi attraverso una media ponderale anche il coefficiente Φ complessivo. Sono noti i parametri A e N della curva di possibilità pluviometrica che è preassegnata. Il calcolo procede da monte a balle, quindi partiamo dai rami di monte e andiamo verso balle. Quindi ad esempio dovremo calcolare prima il condotto 1, poi il condotto 2 e poi il condotto 3. Partiamo le grandezze che ho descritto prima già note, dobbiamo ipotizzare che sia nota la lunghezza, è nota in generale la lunghezza del condotto che stiamo considerando, abbiamo già scelto il tipo di materiale del condotto oppure è già noto il tipo di materiale del condotto e quindi ne conosciamo le caratteristiche di scabbrezza idraulica, conosciamo la pendenza del condotto. Allora possiamo procedere ad un predimensionamento del condotto, quindi scegliamo a piacere, naturalmente qui l'esperienza conta, ma scegliamo un diametro del condotto, a questo punto abbiamo tutte le grandezze note per poter calcolare la velocità di massimo riempimento con la formula di Schezzi, quindi in condizioni di moto uniforme. Conosciuta la velocità di massimo riempimento, conosciamo anche qual è la portata massima che questo condotto ipotizzato può convogliare, sempre funzione della formula di Schezzi, ma conoscendo ormai la velocità possiamo calcolare il tempo di corrivazione del condotto 1 con l'espressione che abbiamo visto prima, in questo caso sarà dato dal tempo di entrata, in più il tempo di traslazione nel solo condotto 1, dal momento che è l'unico che stiamo considerando. Conosciuto il tempo di corrivazione del bacino 1, conosciamo quindi la durata critica che è proprio pari al tempo di corrivazione, quindi sappiamo scegliere la pioggia critica e quindi applicando la formula razionale troviamo la portata critica che la pioggia critica produce in questo bacino. Conosciuta la portata critica si può verificare che quel predimensionamento del diametro di 1 sia tale da verificare con adeguato franco, quindi con adeguati margini di sicurezza, la compatibilità e quindi dobbiamo verificare che la portata critica che abbiamo così calcolato sia convenientemente minore della portata di massimo riempimento. Se questa condizione è soddisfatta e abbiamo finito per il condotto 1, se viceversa abbiamo sbagliato il predimensionamento dobbiamo cambiare il diametro finché non sia soddisfatta questa verifica, questa disuguaglianza di verifica. La portata critica ci andrà bene quando sarà circa 0,7-0,8 della portata di massimo riempimento, quindi con un adeguato margine di sicurezza rispetto al massimo riempimento del condotto. Quindi abbiamo dimensionato il condotto 1, a questo punto procediamo al condotto 2, ma non ripeto assolutamente perché le cose sono esattamente le stesse, essendo il condotto 2 il condotto di testata. Più interessante è il condotto 3, il condotto 3 in quanto è il condotto che riceve le acque, ma noi siamo con un modello globale, quindi come si diceva nella precedente lezione, dobbiamo trascurare quello che avviene all'interno del bacino, quello che ci interessa è rappresentare l'intero bacino. Allora è nota la lunghezza L3, la scabbrezza del condotto KS3, qui è indicato il coefficiente di scabbrezza di Strickler, la pendenza I con 3, si predimensiona il diametro 3, se ne calcola la velocità, sempre con la formula di Schezzi e quindi anche la portata di massimo riempimento, a questo punto si può calcolare il tempo di corrivazione complessivo del bacino, attraverso quell'operatore e quell'equazione che abbiamo visto prima, quindi si dovrà calcolare il valore massimo del tempo di corrivazione tra i percorsi possibili, in questo caso i percorsi possibili sono 1 più 3 o 2 più 3, tra i due 1 è più grande, si prenderà il più grande, lo si somma al tempo di corrivazione 3, lo si divide per 1,5 e si aggiunge il tempo di entrata e questo sarà il tempo di corrivazione dell'intero bacino. A questo punto si può quindi calcolare la durata critica, che in realtà è proprio pari al tempo di corrivazione, la portata critica e si può fare quella verifica che dicevamo prima, verificando che la portata critica che si ha qui alla sezione terminale del bacino sia convenientemente contenuta nel valore di massimo riempimento, altrimenti si corregge fin tanto che questa verifica è soddisfatta. Osserviamo che quando andiamo nel bacino 3, il tempo di corrivazione dipende dal solo percorso più lungo, quindi non dipende dai tempi di corrivazione dei bacini secondari, il modello è tutto dominato dal tempo di corrivazione del percorso più lungo, possono esistere componenti secondarie del bacino importanti, ma non entrano nella curva a retempi, non entrano nel tempo di corrivazione complessivo del bacino e quindi nell'individuazione della durata critica. Quindi la portata critica calcolata dal modello cinematico dipende dal percorso più lungo. Ecco, ho terminato e vi ringrazio dell'attenzione.